Stiamo andando a Roma, perché oggi è la Domenica delle Palme e si va a Roma a vedere il Papa. Fa passare un'anima adesso. Ce la facciamo? Anche poi sta facendo una... Eeeh... Vai, prova. Prova di piedi! Eh, vabbè. Oddio! Vai, prova, prova, prova! Vai! Madonna! E niente, ci abbiamo rinunciato. Vai, vai, vai! Oddio, per poco! E niente, ce le stiamo andando. Siamo arrivati, poi bagnato, e siamo arrivati. Adesso dobbiamo entrare. Se lo legge, no? Che cazzo è? Allora, fai, allontaniamoci che arriva il treno regionale di pagina 8. Bellissimo! Eh, che cazzo! Se ne va! Non si ferma più! Maronna! Il negozio della Roma! È chiuso! No! Il negozio della Roma! Si vede San Pietro! Si vede San Pietro! Qua c'è una... Sta passando un coso! Si vede San Pietro! Andiamo per entrare e ho visto che è pieno di gente! Pieno! Oh, che è? Ma tu! Curva Nord, facciamoci sentire! Ale! Ale! Mamma mia! Questa è la curva Nord! La curva Nord del Papa! Eccolo! 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 grande